Chi? Non va bene Donato? No 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 Non ci faccio il cuoio Donato non va bene così Che c'è un man che porta sotto il brazzo Ma che perciò Ma sei fumetto Ma sei fumetto Il più difficile della vostra è quella che vi chiesto Perché il mio amico è stato messo la mia madre E' chi fa il tarreo nero Ah no perché tocca a terra su YouTube Dario ti ha chiamato? Scusa No 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 non mi ha chiamato Mi ha chiamato E' qua Guarda sulla parete Non è qua non sta Un quadro Facendo E' che tu cazzo vuole Hai questi Non sta più No Ma è normale che la partita può essere così C'è La fatta da fare Qua C'è Ma Voi ci stanno Ma Vai 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 Voi Vai Vai Vi santi non si parla in casa a voi A Rosario che lo squalifico è così. 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 e le g Luca! 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 Scusa, fatti un po' più dietro, no? Ok, grazie. Scusa, fatti un po' con la lana normale, hai capito? Non vi permettete proprio, se volete venire a vedere la partita qua, ok? C'è una bottiglietà che ci ha fatto roba. Scusa, fatti un po' con la bottiglia, hai capito, hai capito, hai capito, hai capito, hai capito, hai capito, hai capito. Scusa, fatti un po' con la bottiglia, hai capito, hai capito, hai capito, hai capito, hai capito, hai capito, hai capito. Scusa, fatti un po' con la bottiglia, hai capito, 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 hai capito. Ma non fra me non va convinto, a questa, non tra il qualsiasi. Allora, un po' più ragazzo, basta un po' costruzzo. Sì, vabbè, vabbè. no e poi come mettere la surely siano dove vita ci siamo conosciamich but caviare, colere, colere, colere! ma… Rientra! 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 Vadoff va! Come c'è l'hai? Siamo chiacchiamola? È riuscita! Come c'è l'altra parte? Ah, che male! Tu lo sai che ti sa pensi di te! Ma non apanisci mai! Ma apanisci! Ehi! Se fai camare di là solo l'arbitro è vero! È vero! Che cosa faccio? Che cosa facciamo scappare? Che cosa facciamo scappare! Chiunque! 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 Grazie a me. Pantaro! Mi dici tutti io. No, ma la mi sanno di dire. Imposta, imposta. Imposta tua, adesso. Ma non mi chiede. Ma non mi chiede. Ah, vuoi? A me chiede? Eh, già si chiede che ce l'ha. Invece di fermare palla. A tu avanti, se lo sai di dire. A me una palla, però la palla è una musica attiva. Buona, eh. Mi chiede. Ci ha miso una bella palla. Però la Danila ti ha tagliato a prendere. No, era la palla, era la palla. Io penso che l'ho messo aiutato. Un po' di mesi, stai. Giocava con voi. Giocava con voi. Ah, dott' Pietro che entra. Ah, madonna, questo Pietro è successo. Giocava! Oh, merendezza. Giocava fuori il gioco, ma... Giocava! Sott'olio qua! Sott'olio qua! Giocava, giocava! No, giocava, giocava. Giocava, giocava. Giocava! per fare il dittaccio e dopo di finire e dopo la frase come tu non? ma mi fa un mistero ci pensiamo la passarebbe la passarebbe entrano tutti venendo questo come questo quale vedi? 3,50 non sai che sei il cambio per fare questa si si l'hanno messo in bilo si questa l'hanno messo in bilo quest'anno l'hanno messo in bilo da dentro da dentro e chi c'è su? ahhh ahhh si e qui tutta la mano tutta la mano su fare giù di ufo di silenzio il filo fatti la maglietta e' rito mangiato eh per me li no abbiamo mangiato eh ahhh la tucca bella ahhh la tucca bella Sì, stai facendo spazio, non stai a zè. Sì, stai facendo spazio, non stai a zè. Avanti, Leo, le le dite. Ma mi usaccio così, tu, basta. E mangì, ma che palla che c'ha due. Allora, Morel, vieni a voi. E' meglio. E' meglio. E' meglio. Ciao, Torè. Ah, prima di giocare, ha iniziato col 3. Di prima di. E infatti secondo me non può giocare. Secondo me doveva giocare nelle due punte, Samburo e Munchialli, e Recchiare Nebo. E' più spregiù di più. Ci vuole troppo, non è. No, com'è. Non c'è. Può fare il 4-2-1. Il 4-2-1, bravo. 4-8 esterni. Eh, non c'è la tavola. Allora, spero da pure il 4-1-2. Eh? No, no, perdi l'esterno. Perdi gli esterni altri. Ma non serve. Ma non serve. Magari tu basti mettere il 4, il 4 e l'8, perché non bravi. Prima del Mambodone, all'inizio è giù. Ma non mi dico come ti fa lì, scopriamo due occhi. Il 4 e l'8. Ma non mi dice assi. Non mani mai, avvisa sempre! Un po' il due, ha fatto un po' lì. Questa è qualcosa che non mi permisesse. Il 4 e l'8, passiamo. Non posso tirare. Non ci sono un'epoca, non ci sono un'epoca. Non ci sono un'epoca. Non ci sono un'epoca. Taglia l'interno. Che è l'epoca. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Io sono tutto sbergo. Grazie a tutti. Presidente sbergo. Sbergo. Bello, bello. Bello. Ciao. Faccio incidere ci vuole i buni. Ah, scarama i buni. Quello mi si è passiva. E poi mi sono passivano. Non è così. C'è la faccia affigliana d'aglio. Ma lui diceva. Venga, era del vecchio. se lo treno domani, non c'è più quattro anni è più facile è scritto che gli anni... stai sempre irritato con gli accordi come cazzo rimbacco il giro? vedete in giù c'è la faccia stai sempre irritato con gli accordi un gol non ammunisci sui valli bravo e la ricetta vado 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 il giro si fa il giro è la prossima vado Vado L'abbè è lì 4 a 1 a 3, caffecino. Quando è una salita? putting in tanna! Non si vede, ha scritto il Bruno. Prima che mi spot Enrico per l'avellino hanno perso 4 a 1, Enrico te lo dico più! Ma che fa? Ma che fa? Ma che fanno? Ma che gioco? Ma lui? Non fa la chiesa. Ma sai, ci sono... Ti sto a dubbi. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Non so qua, ma si è nel fatto la nostra. Tuoi, la playa di me. La playa di me. Non so se lo può. Stava qua, l'ingresso. Ma che bello? Ed è il centro di mezzo. Ma pure qua facendo il meiamo adesso. Ebbene! Non so se lo facendo, non so se lo facendo. Non so se lo facendo. Non so se lo facendo. Ma che è giusto? E' un'altra cosa. Non so se lo facendo. E' un'altra cosa. L'ingresso è stato molto simile. Bravo Gigi! Bravo Gigi! Abbasso dentro! Abbasso dentro! Abbasso dentro! Grazie! Non sto mai facendo un muro Saluto malo a chiuflo! Saluto malo a chiuflo! No, si c'è più in grado che la metta bene! Ma che cosa? Se c'è più che fai dentro? No! Ma si sta! Aspetta! O ce la... Dio! Prendiamo! No, perché non mi conosco... No. e poi la domenica non go corrono al campo non posso fumo dopo io lo dico per te e la domenica poi non rende fumo dopo non rendo a fumare ma guarda ha scritto a pacello lì lei ti farei filmare con me solo per l'ignoranza anche io per l'ignoranza ma fatti capa anche i cecchi capito? ma c'è qualche problema sperando io se giochiamo è meglio io voglio accettire io voglio accettire io voglio accettire che cazzo non mi piace che ci stigmate non mi piace riparto per riparte ma mi piace che stile hai il 4.5, 4, 4, 4, 5, 6 vabbè vabbè non ci vuole ho un cusso quanto manca Vincenzo? eeeh.. 4 d'ora? no non giochevamo me il sabato è partita vabbè mi fai lasciato a calcio al 5 ho un cusso ma esatto? vai bucane da questo io lo sabato ci metto la tre sede ho guffo a Cosenza nooo sabato scorso la mostra è a Cosenza quindi Grazie a tutti. puoi entrare dentro l'auto preso le mangi preso le mangi e dici così lo stop per calciare lo stop per calciare si mangi si, ma tra poco più a destra lo aspetta il tempo reggia se non ti diciamo tra poco più a destra e dici si 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 mi si mi si 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 lille Panserero 0-1 con i trani, perdelo! Tu sei che mi sforzo la camisina! Metti fuori, tu sei che mi sforzo la camisina, mangi l'intelligenza frustativa! Non ci sono, tu sei, tu sei! No, ma non! Non c'è un po' di... Non c'è un po' di... Non c'è un po' di... C'è un po' di più del nostro... C'è un po' di più del nostro! Brava Dotto, gioca! Ré, ti sei chiamato? No, vogliamo, eh? Brava. Mi dispone. Bravo. Bravo! 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 Sordio? No, no, io sono... Sordio? ...hanno fotte i pasticini? ...hanno f�atissi? Le pote 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 le potele! Dai, lì, uscita! No! Sì, 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 sì. 1-0 ha vinto Pirò, con il Gragnano. Un'altra parte, un'altra parte. Eh, stava bene. Terzo 1. Aspetta. Terzo 1. Era penultimo. Esatto, esatto. Era penultimo. Gragnano no, sta sotto sotto. Sì, sì, 3 punti. Però sta sembra l'altamore Picerno in destra. Vieni, ascoli Picerno. Vediamo. Ci vuoi ripi, ti permette di scartare la cittura in destra. Ci vuoi ripi. Quello ti ha mai fatto dentro. Quasi ditte, è molto. Te lo panni. Io, Picinchi, ma l'importante sono i piedi. Anche la per poco, lo vuoi. Spittano la po'. Io, mei, scappa. Anche la per poco, lo vuoi. Picinchi, io, sono tre anni. 42. 42. E poi lo dico, è un 42 e mezzo vicinino. Io ci ho chiesto un perzzato. Li tagliate io, mi sono 42 e me. Eh, vede, è un manno 42 e mezzo. 42 e mezzo. Anche, con me dove c'è il piede, 43 e mezzo. Ma io non voglio chiacchiare. Però tramite Giuseppe la manina. No, non so. Ma ne vado, non si. Un po' da 42 c'è l'ordine. Oh, 42 e mezzo. Se, mi ho messo in un'opera del chio, e mezzo. Ma, arrivis. Promo sta a Bologna. Con la parola di te, ti rinvole. No, vado. Vado per lì, il pesco che ti rinvole per l'arara. Oh. Vai, Pietro. Pietro. Ma, bravo. chi si chiamano? vai vabbè con cipolla o senza cipolla? poco piccante non c'è l'acqua non c'è l'acqua non c'è l'acqua anche per quanto la piccola non c'è l'acqua non c'è l'acqua vabbè 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 non c'è che ci bud ti puoi trovare con piccola o grande che è una piccola o grande poi vabbè per una piccola lui non ti può non c'è l'acqua che è un bologno non c'è il rischio E' un po' di forza da uno sguardo Abbiamo un po' di abbracciare, saluti Ma la sguardo Ma la sguardo Ma la sguardo, mi vengono visto in casa fredda C'è un malto, per te nemmeno che sento freddo Non si fa da sé Ci facendo un ripeto di ternoda E' un po' di sbagliati E' un po' di sbagliati Quando i miei compagni mi hanno poi gridato Ma quale cazzo, sei mazzato? Un rischio da 0 a 0 Ma 0 a 0, tu sei buono E' buono, sto giocando in casa Non si è buono No la sguardo E' un poco E' un po' di ma E' un po' di ma Dio Ed è un po' di ma E' un po' di ma Sì, è un bugger. Si, è perché il caricato ci facciamo anche a me. No, 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 no. Questa è un po' di più, è un po' di più. C'è tutto il posto, Presidente, il caricato. Tutto il posto, sì. Apre inzuccio, apre inzuccio. Di prima. Prende, prende. Prende, prende. No, rientra, rientra per punto. No, mamma! Stai segnando i tempi, Vincenzo? Forse poi alla fine mi metti... Buona fattura di... Buona fattura di che? E' una fattura che lo affoggi. E tu vuoi fare? Giustamente, mica potete guardare l'elenza. Ma anche lui non esiste, mi capisco. Non puoi fare. C'è una poffata, le cronquole. E' un po' palazzo. 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 30 euro qui, il zangrovo pizza, stai da mangiare la pizza stasera, stai da mangiare stavo pensando in più, ma quello costa 30 euro, quel calato, costa 30 euro, no ma pure non ci pensavo, pure meno, più 10 euro, ma là perché ci vuoi fare gratis, cioè capite è proprio una cosa che ti aveva freddo, ti aveva fatto 7 mili di recupero, una stosta bianunigi, bianunigi Sì, per salire, era per salire, partita finita, partita finita Ancora non lo dà il recupero Ma se stava donato ad arbitrare, mi diceva voglio senza recupero Che ti recuperava donato? Tagliava un po', tagliava un po' Quindi quando andate a giocare, prendete tutto il tipo, guardate tutto il tipo Il tuo tipo, guardate tutto il tipo L'arologico è un casino, prendete le mani Ma non lo so, prendete le mani E' brutta non lo so, prendete le mani E' brutta non lo so Almeno lo so, sanno che lì, per favore no Ma i partiti sono così Adesso hai chiesto, sei pronto? Per traghetta Viva, viva, viva 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 bravo, salire dalla squadra poi gioco per la squadra ci facciamo una propaga, ci facciamo una propaga ci sono i billetti, vieni, 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 vieni basta basta la facciotta è cinque anni 48 3 minuti lo faceva la pratica, 3 minuti